Salve a tutti, salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video del gruppo 1831. Oggi affrontiamo una tipologia di orologi che è stata affrontata da qualche vlogger, ma senza cognizione di causa, ovvero per sentito dire più che altro, sulla base di quelle poche, pochissime, info che si possono trovare sul web. Di cosa parliamo? Parliamo di questa tipologia qui di orologi, ovvero i secoli 5 sports con cassa e ghiera in resina. Allora, questi orologi hanno delle particolarità, nel senso che non si trovano sul nostro mercato, non sono importati in Europa, ma neppure ad esempio sul mercato americano, perché sono degli orologi che seco a concepito espressamente per il mercato cinese. Questa scelta è una scelta che, diciamo, rimane imperscrutabile, nel senso che noi non sappiamo perché abbia deciso secoli di distribuirli solo lì. Magari ha voluto fare, non so, una prova, un test, per verificare se queste referenze potevano incontrare i gusti della gente, dell'utenza. Diciamo che questa produzione, peraltro, è una produzione cinese, nel senso che li fanno in Cina e li distribuiscono in Cina. Li fanno in una località, cioè presso una fabbrica, della Seiko Instrument, la SII, che è a Guangzhou, se non ho vaderato, Guangzhou, non lo sono scritto, e vengono distribuiti in Cina attraverso un distributore di Shanghai. Ok? Quindi, per acquistarli bisogna andare su siti cinesi, e quindi su venditori cinesi. In sostanza, è una distribuzione che avviene praticamente online, credo. Non so se fisicamente ci siano dei negozi che li vendono, probabilmente in Cina sì ci saranno. Però ho visto che per la maggior parte gli acquisti sono gestiti online. Tra l'altro anche la garanzia si può poi, con un QR code, si può scaricare ed attivare. Quindi, questo probabilmente lo fanno anche per risparmiare carta. Primamente Seiko ha risparmiato, cioè sta cercando di risparmiare, sta cercando di diventare sempre più green, diciamo, e quindi risparmia anche sulle garanzie e quant'altro. In realtà, a me è arrivato con i classici, guardate, le classiche documentazioni, con una card, vedete, classica, timbrata, dal rivenditore cinese, dal negoziante, e anche col suo manualetto. Quindi, in realtà, probabilmente il negoziante aveva anche un po' di garanzie classiche e le ha utilizzate. Questa referenza qui è la referenza SRPG 73K1. Vi sono varie referenze. Allora, questa là, vedete, è la cassa in resina chiara, quasi bianca. In realtà non è proprio bianca. È un bianco molto scuro. Sporco, direi. Guardate bene le particolarità di questo orologio. Allora, è un automatico, un 4R36. Cassa in resina, ghiera in resina, bidirezionale, bidirezionale, ok? Cos'altro? Ecco, fondello a vite. È chiaro che non potendo, diciamo, applicare un fondello metallico con il classico avvitamento, quindi con un sistema di filetti, perché poi la plastica si sarebbe rovinata, ecco, hanno sostanzialmente sopperito a questo aspetto con 4 vite. Ora, ricordano un po' se vogliamo i casi. Ok? Voleva caso, ma non solo. Ci sono anche degli Alba, se non ricordo male, in questo sistema. Ci sono varie produzioni. In realtà, volendo, si può fare anche un fondello a vite, scusate, un fondello a pressione, come fanno, ad esempio, i Marathon, come fa la Marathon. Guardate, questi sono fondelli a pressione, casse in resina e fondello metallico a pressione per il cambio pila, ok? Però questi sono dei Quartz. Qui, invece, guardate, questo è un orologio sempre completamente in plastica, è una rummage dei Panarus Timex Vietnam, dietro ha anche delle finte specifiche, ok? E questo ha un fondello in plastica a pressione, che si apre ed è un quarzo. Prodotto, tra l'altro, da un'azienda giapponese, e ve lo dico anche, si chiama Daiso, che ha sede a Hiroshima, ma che produce in Cina. Quindi anche questi sono prodotti in Cina. Evidentemente, i cinesi sono dei bravi cassai in plastica. Sanno utilizzare bene la plastica nel realizzare le casse. Ora, su YouTube ho visto che un po' si è cercato di capire, qualche canale ha cercato di capire un po' le problematiche legate a questo orologio, perché non si trovano sul mercato. Alcuni poi hanno detto che queste sono delle imitazioni di Swatch, le hanno cercato di buttare lì delle considerazioni completamente sbagliate, perché chiaramente questo orologio... Ora, Seiko, la resina la utilizza dagli anni Ottanta. Ci sono poi anche degli alba che io ho tutti in resina, anzi, sono in resina con fondello a pressione in metallo. Quindi la resina è sempre stata utilizzata. Negli anni Ottanta moltissimo. Ricorderete poi anche i shrood di certi sportivi e diver. Per esempio, il classico Arni ha una protezione di resina, di plastica, che tra l'altro si spacca anche molto facilmente, ma ad esempio ultimamente Seiko ha anche questi Arni New hanno una protezione in resina, quindi la resina non è mai stata abbandonata completamente da Seiko. Qui abbiamo un ritorno della plastica. Allora, qui probabilmente le considerazioni sono due da fare. Uno, che questo è un prodotto tendenzialmente rivolto ai giovani, per la peculiarità del prodotto, molto leggero, mi sono anche segnato che sono 14 grammi pesa, quindi pesa veramente poco. Secondo me l'aspetto interessante di questo orologio è che ha il meccanismo automatico e non un quartz. Ecco, normalmente si associano gli orologi con casse in plastica a orologi al quarzo, i Casio, prendiamo i Casio classici. Casio fosse una delle aziende che ha maggiormente utilizzato, e ha ancora appunto moltissimo, i G-Shock, ne sono un esempio, anche se ultimamente ne ha fatti di metallici, però, con casse metalliche, però, linea di massima si associa alla plastica al movimento al quarzo. Qui invece siamo di fronte a un Seiko 5 Sports, quindi con un classico 4R36, cassa in resina, leggerissima, anche la corona, come potete vedere, è metallica, anche la ghiera è plastica, invece, e poi avevamo un quadrante classico da 5 Sports che richiama i stilemi appunto della serie SKX, da cui poi oggi derivano i Seiko 5 Sports dal punto di vista stilistico. Ora, parliamo di questa cassa, perché questa cassa, sì, è, ricorda molto la slim case, seppur mid-size, però, un po', secondo me, si discosta, perché, allora, prendiamo ad esempio questo, questo è il classico, classico, diciamo, è il mid-size, uscito due anni fa circa, slim case, ok? Noterete che ci sono le differenze, intanto, dove le si nota? Allora, questa cassa è più lug-to-lug e più lunga, perché qui siamo, me ne sono scritto 46 mm, 46,50, contro un 42,60 circa, ok? Quindi è più slanciata. Come diametro, questo è un po' più grande di un millimetro, questo è un 39 qualcosa, 39 mm, questo è un 38 mm, ok? La particolarità che rende questa un po' più slanciata è l'ansia, che è un 18, e questo invece è un 20, quindi ci sono delle belle differenze, ma non solo, se li mettiamo così, allora, che cosa si nota? Beh, si nota chiaramente che questa cassa qui, la cassa del nostro resina, è molto più spessorata, perché? Perché ci deve entrare un calibro automatico, e il fondello non è bombato, come invece è nei 5 Sport, questi fondelli sono più bombati, quindi qui hanno lavorato di spessore sulla cassa, qui invece hanno reso la cassa un po' più sottile, e hanno bombato il fondello, per farci entrare il 4R, ok? Quindi, ci sono delle differenze stilistiche abbastanza evidenti. Questa cassa qui è più piatta, ai bordi, va bene? Questa invece è arrotondata, ok? E più affusolata, ok? Quindi ci sono, ci sono delle differenze, vabbè, questo è un fondello a vite, questo è un fondello invece a viti, a 4 viti, queste sono differenze, poi chiaramente entrambi non hanno la coronavite, ma abbiamo visto che i 100 metri non ne hanno bisogno, ok? I 100 metri dichiarati sono comunque garantiti, ok? Questo è anche dichiarato antimagnetico, 10 bar con il simbolo dell'antimagneticità, ok? Poi magari vi mandiamo qualche foto dalla regia, su come è incassato il movimento 4R36 di questo orologio. Cos'altro? Ecco, queste sono, diciamo, le misure, ecco, la referenza, ve l'ho già detta, quella, diciamo, effettiva, cioè, la referenza dell'orologio, è 4R36-09-M0, ok? Ripeto, si possono trovare tendenzialmente presso rivenditori cinesi, quindi negozianti cinesi, e non invece presso i nostri, non vengono appunto importati. Si possono fare anche altre considerazioni, ad esempio altre comparazioni con questi, che sono sempre dei mid-size, hanno sempre una cassa mid, però sono già un po' più grandi, ad esempio, questi 5 sport di questi, questo è un 38, questo è quasi un 40, ok? E non ha la ghiera, questi sono senza ghiera, hanno la lunetta fissa. Diciamo che, anche rispetto a questo modello, la cassa è diversa, perché questa rimane comunque arrotondata, è la tipica cassa a slim, arrotondata, ok? Mentre questa cassa non è assolutamente, è più piatta, è un po' più piatta, sui bordi, va bene? È un po' più piatta, sul bordo. Come dicevo, capire perché sia stato limitato e circoscritto, la distribuzione sia stata limitata, circoscritta al mercato cinese, questo non possiamo dirlo, è un dato oggettivo, è un dato oggettivo che ti fa dire, probabilmente, hanno fatto un test sul mercato cinese, hanno voluto capire se il prodotto poteva andare, e poi evidentemente hanno deciso di non distribuirlo all'estero. Questa può essere un'ipotesi. Certo che il mercato cinese comunque è un bel mercato, cioè un mercato con molti clienti, giovani anche, questo è un prodotto tendenzialmente pensato per i ragazzi, può essere considerato una sorta di sostitutivo alternativa di uno swatch in resina, oppure di un G-Shock in resina, quindi di un Casio. Chiaramente, ecco, mi ero dimenticato, chiaramente, ecco, Citroen in gomma, chiaramente, siamo di fronte a un orologio che ha un Ardlex, quindi, questo ha un Ardlex, come tutti, gli orologi di questa serie, della serie 5 Sports. Questi Ardlex, che probabilmente hanno anche un bello spessore, speriamo che non vengano, diciamo, contemplati dalla componentistica WAP di Marco Bracca, e speriamo che quindi vengano dispensati dagli aggiornamenti. Ardlex vetro o vetro zaffero, sono assolutamente efficienti. Così, ecco, faccio anche presente che questo è un modello con, non so se si riesce a vedere, con una, un bellissimo quadrante verde scuro, un verde bosco, verde inglese, e anche il cinturino è verde. Ci sono altri, molti altri modelli, anche con casse, non chiare, ma casse scure, casse grigio, grigio o verde, verde scuro. A me questo piaceva particolarmente perché un po' si, come posso dire, si discosta dai classici abbinamenti di secco. Si potrebbe definire quasi un po' un orologio da sanitario, o da para, parametico, comunque è un orologio che ha una sua, come posso dire, gradevolezza. È gradevole. È un orologio gradevole. Ripeto, rientra in uno schema produttivo, quello degli orologi in resina, che, se vogliamo, normalmente vengono equipaggiati con calibri quarza. Cioè, questa associazione resina quarzo, mentre invece nel caso specifico secco ha voluto fornire un calibro, ha voluto adottare un calibro automatico e secondo me, diciamo, è un aspetto da non sottavoltare. Quindi, ripeto, non si trovano in Italia, non li trovate nei soliti mercati, tra virgolette occidentali, li potete invece trovare sul mercato cinese, digitando le referenze, poi magari vi mandiamo anche qualche immagine pubblicitaria con le referenze. Questo, come vi ho già detto, è SRPG3773K1. Questa è la referenza. Poi, le altre referenze sono molto simili. Comunque, il prefisso è sempre SRPG. Ok? Questo vi saluto, vi rimando al prossimo video, sempre invitandovi a discrivervi ai soliti canali che fanno televendite, che fanno promozioni, che fanno anche video strutturati, basati su video amatoriali dei propri follower e anche dei soliti canali pranoterapistici o pranoterapeutici di orologeria manuale. E concludo dicendo che è valga il vero. Grazie. Grazie.